Non solo turismo, ma ogni tipo di settore potrà trarre giovamento dal passaggio dell'alta velocità nel Vallo di Diano attraverso la realizzazione della nuova tratta Salerno-Reggio Calabria, che consentirà di coprire la distanza tra Roma e la punta dello stivale in poco più di quattro ore. Il tema è stato affrontato e analizzato nella giornata di ieri a Padula con l'onorevole Luca Cascone, consigliere regionale e presidente della Commissione Trasporti, che ha sottolineato come ormai il tracciato è stato definito e pertanto il Vallo di Diano in breve tempo sarà attraversato dalla linea dell'alta velocità. Un punto importante arriva anche dalla possibilità di poter vedere sorgere una stazione nel comprensorio che sarà un anello di congiunzione fondamentale tra l'Italia e le bellezze culturali e storiche presenti nel Vallo di Diano. Bellezze che però dovranno essere adeguatamente valorizzate e promosse per consentire i flussi turistici capaci di creare lo sviluppo economico. L'alta velocità, che poi non dimentichiamo di essere anche alta capacità, quindi trasporto merci, è sicuramente un progetto importantissimo in generale per la ricaduta economica che avrà, ma è importantissimo anche per la possibilità di collegarsi. Proprio nel territorio del Vallo di Diano o a confine con il Cilento Basso si immagina di individuare una seconda stazione qui proprio in provincia di Salerno. Credo che questa possa essere una svolta, sicuramente le stazioni di alta velocità portano ricchezza, contenuti, perché sono tante le persone che arrivano per prendere il treno, ma è soprattutto un modo per arrivare rapidamente qui, in questo territorio, venire a visitare posti stupendi come la Certosa, quindi ci sarà una valorizzazione e una crescita complessiva. Fine della discussione anche in riferimento alla scelta del tracciato da parte di RFI, un'analisi che è stata spesso oggetto anche di divisione tra i territori del Cilento e Vallo di Diano con diversi esponenti politici che non hanno mancato di manifestare dissenso contro la scelta del percorso con attraversamento del comprensorio valdianese. Una scelta ormai definita che, come ribadito dall'On. Cascone, è stata innanzitutto tecnica. Io credo che sul tracciato ormai la discussione sia stata superata perché si parla di un tracciato parallelo all'autostrada, quindi che attraversa il Vallo di Diano. Sulla localizzazione della stazione ci sono varie ipotesi, c'è un'ipotesi come dire più collocata nella zona del Vallo di Diano e c'è un'ipotesi sempre nel Vallo di Diano ma un po' più spostata verso, diciamo, il territorio di Sapri e Policasso. Una delle due scelte sarà comunque importante.